Ciao e benvenuti ad un nuovo video. Tutti noi abbiamo delle cose buone nella vita che portiamo nel nostro cuore, vero? Anche prodotti che ci accompagnano ogni giorno e che rendono la nostra vita quotidiana migliore, più bella, cose autentiche e uniche per l'appunto. Oggi voglio farti conoscere uno di questi prodotti autentici e unici, un prodotto composto da tre ingredienti principali, aloe vera, propoli d'api e camomilla. Più precisamente convene il 74% di puro gel di aloe vera. La crema idratante per eccellenza insomma. Il propoli d'api rafforza la barriera cutanea e crea una pellicola protettiva sulla pelle. La camomilla invece lenisce la pelle in modo delicato. In aggiunta poi le vitamine A ed E che hanno molte proprietà curative. Ottimo tutto questo, non trovate? L'insieme di tutti questi ingredienti rende questa crema per il corpo e per il viso una star assoluta, semplicemente unica. L'autenticità di aloe propoli Scream di Forever è il suo potere idratante. Questa crema infatti offre alla pelle un meraviglioso trattamento ricco, un ottimo supporto che assicura il ripristino ottimale dell'equilibrio cutaneo. E usandola noterai da subito la differenza. sia sul viso che su tutto il resto del corpo. Aloe propoli Scream è estremamente versatile. La crema è particolarmente indicata per pelli molto secche, irritate e sollecitate. E molti di noi conoscono bene questa sensazione di tensione che proviamo quando la nostra pelle è secca. Così secca da causare addirittura prurito, a volte anche molto fastidioso. Questo può essere causato per esempio dall'aria secca prodotta dal riscaldamento in inverno. Il costante cambiamento tra aria secca all'interno e fredda all'esterno possono ovviamente influenzare la nostra pelle. E questo accade anche in estate. I raggi del sole e il calore portano ad una perdita di idratazione da parte della pelle ed il risultato è che la pelle diventa secca e si stressa. Per questi motivi la pelle ha bisogno di cure e di supporto tutto l'anno, sia al freddo che al caldo. Aloe propoli Scream è particolarmente efficace anche per la cura delle mani e dei piedi. La pelle dei piedi e delle mani è molto sottile. I gomiti sono completamente privi di ghiandole sebacee e questo molto spesso è la causa di gomiti ruvidi e diciamolo poco attraenti. Stesso discorso vale anche per i talloni screpolati e le mani secche. Il mio suggerimento quindi è quello di applicare la crema in modo regolare perché questo è il miglior modo per prevenire la pelle secca. Una semplice azione quotidiana che contrasta anche la formazione di uno strato corneo sulla pelle. Un altro punto di forza, questa crema non contiene acqua. Per gli amanti degli sport invernali è quindi ideale per proteggersi dal freddo. Questa ricca crema avvolge la pelle come un caldo mantello protettivo contro il freddo. È fantastico! Aloe propoli Scream è adatta anche ai bambini, ma non solo. È infatti ottima anche dopo la rasatura. Non importa se si tratti di viso, ascelle, gambe oppure zone sensibili. Applica questa crema ovunque e subito dopo il trattamento. Tutto ciò vale anche per l'impurità della pelle. L'aloe vera è un idratante curativo naturale, senza oli, ideale per trattare la pelle impura. La nostra Forever Aloe contiene molte vitamine, minerali e anche oligoelementi che aiutano la pelle a ritrovare il giusto equilibrio. Altra cosa importante, Aloe propoli Scream può migliorare le condizioni della pelle, che sia secca, che abbia problemi di acne, di prurito o persino di pustole. Solo in Germania circa 4 milioni di persone soffrono di neurodermite. In Svizzera il numero di persone colpite è il 10%, mentre in Austria il numero è in costante aumento. Il fatto è che quasi una persona su quattro mostra segni di pelle secca, a volte piccole aree, magari è capitato anche a te. La cura costante della pelle è particolarmente importante. Lo sapevi che gli antichi egizi usavano il propoli per la cura della pelle e per sostenere il sistema immunitario? Buone notizie per tutti gli interessati. Aloe propoli Scream offre un'ottima cura di supporto in caso di neurodermite. Provala e consigliala a chi ne ha bisogno. C'è tra l'altro una buona indicazione riguardo alla qualità dei prodotti, il sigillo di qualità. Istituzioni indipendenti infatti testano i prodotti in modo tale da poter avere un'ulteriore garanzia relativa a questi. L'istituto indipendente Dermatest ha analizzato Aloe propoli Scream e gli ha conferito il sigillo di molto buono. Siamo orgogliosi di questo risultato ovviamente. Il sigillo di qualità molto buono viene conferito a tanti prodotti a base di aloe e ciò dimostra gli elevati standard di qualità che abbiamo stabilito per i nostri prodotti per l'appunto. crediamo che questa sia la dimostrazione della vera trasparenza nei confronti del cliente. Proprio come te, ti auguro di sentirti sempre bene a tuo agio nella tua pelle, autentica e unica.